Il bambino di Gesù Il bambino di Gesù Il bambino di Gesù Il bambino di Gesù Giocando una partita di calcio non potresti fare incioccare un'altra persona, vuol dire giocare seguendo le regole. Ci stanno dei campioni che sono gentili e danno sempre le possibilità alla squadra di fare azioni e movimenti. Il Fair Play è l'educazione nel comportamento che si ha quando hai a che fare con il tuo prossimo, quello è il Fair Play. Con le domande abbiamo finito, il Fair Play ormai sappiamo tutti quanti cos'è. Un saluto grandissimo, un bacio e un ringraziamento speciale all'ospedale che ci ha permesso di girare questo video. Grazie per la visione!